Ottavio carissimo cosa devo dire in quest'occasione che purtroppo anche tu visto che sei in ottima salute però questi 85 anni cominciano a pesare pensa che pesano a me che ne ho 7 in meno e quindi mi spiace ma voglio dirti che mi fa piacere mi scalda il cuore farti gli auguri per questi 85 anni che abbiamo vissuto non proprio insieme ma idealmente insieme con i contatti che avevamo con la mamma e con tutti noi e quindi ti abbraccio e ti porto sinceramente i miei calorosi auguri di 85 anni e sperando di festeggiare poi i 95 come aveva fatto la nostra mamma un abbraccio tantissimi auguri a padre Ottavio i suoi 85 anni li festeggerà con noi con l'AMSES e noi vogliamo che lui continui a festeggiare con noi per tantissimi anni ancora un grande abbraccio e auguri carissimo padre Ottavio è arrivato anche quest'anno il tuo compleanno auguri auguri di cuore sei un ragazzo sei un giovane di 85 anni hai davanti ancora tantissime cose da fare e noi insieme a te auguri carissimo padre Ottavio tanti auguri buon compleanno